incredibile, sono ritornato allora, innanzitutto ci tengo a scusarmi per l'assenza però un motivo è più che bello visto che ho ricominciato a lavorare quindi non ho avuto molto tempo per registrare o fare qualsiasi altra cosa e l'altro è che purtroppo negli ultimi tempi ho avuto un po' di influenza e quindi fisicamente sono stato a pezzi quindi non sono riuscito a fare assolutamente nulla però l'influenza è passata, la voce sta meglio e quindi rieccoci qui tornati per commentare questa partita mamma mia allucinante oddio, scusate mi è cascato un giocatore del Bari scusate ora tra 20 minuti si rialzerà e... che dire? cioè ne stanno succedendo di ogni tralasciando il fatto che, credo, per tutto il mese di febbraio il Cagliari ha finito le partite in 10 perché con il Modena Rog, con il Benevento Altare e ieri la Padula però prima parliamo della partita ok? prima di andare a sindacare altri oddio, ok prima di andare a sindacare altri argomenti la partita in sé io ritengo che il Cagliari abbia fatto una partita fantastica una partita conio un termine usato precedentemente dall'Eccelso proletaria perché il Cagliari è andato a Bari ha trovato il gol subito con una pennellata fantastica di Mancosu è un colpo di testa alla Padula che è stato graziato dalla difesa pessima del Bari e dal pessimo posizionamento del portiere e dopo aver trovato il vantaggio riesce a gestire una partita in una maniera fantastica il Bari riesce a rendersi veramente pochissime volte pericoloso e non riesce a sfruttare bene i calci piazzati il Cagliari chiude bene gli spazi il centrocampo a tre regge che diventa un centrocampo a quattro in fase di non possesso una partita veramente fantastica fantastica io non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori sul piano dell'agonismo però ci sono tante cose da recriminare io voglio dire che oltre al fatto che il Bari l'ha pareggiata perché c'è stato un rigore e perché noi eravamo in 10 ma il primo motivo che mi viene da dire per cui il Bari ha pareggiato la partita è perché noi non abbiamo fatto il secondo gol non ci siamo portati sul 2-0 che è il motivo principale per cui il Cagliari è andato a pareggiare la partita arbitro a parte rigore a parte espulsione di Lapadula a parte il motivo principale per cui il Cagliari è pareggiato la partita è stato il secondo gol non fatto perché dall'1-0 c'è stato un arroccamento del Cagliari in difesa e là davanti le sortite offensive sono state veramente poche andiamo poi a uno dei fattori secondo me più importanti di questa partita che è stata l'espulsione di Lapadula molti dicono che non doveva essere espulso molti dicono che doveva essere espulso io come sempre sto nel mezzo doveva essere espulso ma nel senso purtroppo il secondo giallo è un giallo che nei falli di gioco può capitare e secondo me è assurdo anche recriminare o dire che non ci sia il cartellino perché purtroppo saltando è normale che vai con il gomito un po' largo quindi il giallo ci può anche stare il problema è se tu sei già stato ammonito per una cazzata è quello il fatto perché se lui non si fosse fatto ammonire per quella mezza scaramuccia dei miei coglioni Lapadula era ancora in campo era ancora in campo e ripeto lo stesso concetto che dissi anni fa per Paoletti ok che segna ma averlo in campo al momento attuale fa più male che bene al Cagliari perché gol a parte a me Lapadula non ha mai trasmesso sicurezza non mi ha mai fatto sentire al sicuro non mi ha mai dato quella sensazione che ok c'è Lapadula davanti segniamo sicuramente no no non è questo giocatore Lapadula e non è la prima punta di cui abbiamo bisogno quindi mi auguro che al termine di questa annata Lapadula torni da dove è venuto o che vada in qualsiasi altra squadra ma che non rimanga a Cagliari perché al momento attuale secondo me è più un malus che un bonus specialmente se uniamo questo tipo di calciatore ad una condizione mentale estremamente volitiva perché è facile che a Lapadula gli si accenda la miccia e non è possibile non si può giocare con giocatori simili sono quei giocatori che ti fa piacere avere perché ti trasmettono la foga la cattiveria agonistica ti fa venire voglia anche a te ed entra in campo però cazzo non può ogni volta essere così che questo si fa a monì per delle cazzate anche no anche no passiamo poi all'argomento arbitraggio tra l'altro si è appena rialzato il giocatore del Bari ovviamente il giocatore del Bari è questo qua tanto così e allora che dire io non non amo molto parlare di arbitri e non amo ancora di più pensare che ci sia un gomblot o un qualcosa di simile riguardo ai giocatori del Cagliari ma sta di fatto che da un periodo a questa parte ci sono delle cose che non tornano effettivamente allora passi in Modena ok in cui tra l'altro il Cagliari ha provato a fare ricorso ed è giusto che sia stato rifiutato perché la mancata espulsione di Zappa non ha pregiudicato poi il risultato finale della partita era l'unico criterio in cui la partita si sarebbe dovuta poi rigiocare però così non è stato ed è giusto che non si sia rigiocata però l'arbitro che ha arbitrato Modena Cagliari era andato a spulciarmi più o meno le caratteristiche se voi andate a vedere su Transfer Market le partite che ha arbitrato quell'arbitro noterete che in ogni partita ha tirato fuori in media dai 5 cartellini in su e se non erro forse una volta in una partita di o di Coppa Italia o di Coppa Italia di Serie C ne tirò fuori soltanto due più o meno io dico ma puoi mandare in giro un arbitro simile puoi cioè boh vabbè parliamo però della partita col Bari dell'arbitaggio della partita col Bari il rosso alla Padula purtroppo secondo me è impossibile contestarlo perché la Padula avrebbe dovuto evitare di cadere nelle provocazioni dei giocatori del Bari i giocatori del Bari cosa hanno fatto? hanno cercato e ci sono riusciti a diciamo creare una sorta tra virgolette tra miliardi di virgolette di minaccia psicologica nei confronti dell'arbitro perché a ogni minimo contatto i giocatori cascavano per terra che dire ha passato tutto il tempo per terra e hanno portato una sorta di sudditanza psicologica nei confronti di massa che ha portato poi a tutto quello che è successo ma con questo non voglio dire che il Cagliari abbia subito dei torti arbitrali quello no ripeto non voglio ribadire non voglio far passare questo mio discorso come un Cagliari che sta subendo il complotto ok però c'è anche da far notare che ogni volta qua si parla di squadre che subiscono due pesi e due misure è a me quello che dà fastidio perché se è rigore quello su di Makumbu e secondo me è rigore perché visto il contesto visto per come è avvenuto anche se l'ha sfiorato e non l'ha toccato in prospettiva quello è rigore è rigore c'è poco da fare se non l'avessero se la cosa fosse stata a parte inversa ovvero se fosse stato un giocatore del Cagliari a subire quel fallo io mi sarei incazzato come una iena se non mi avessero dato il rigore ok quindi quello per me è rigore giusto purtroppo Makumbu gli ha fatto la cazzata ma ripeto la cazzata è stato non fare il secondo gol e portarsi in doppio vantaggio però se è rigore quello su Makumbu era rigore anche quello del Cagliari nel primo tempo è lì il problema quando ci sono due pesi e due misure e due misure molti chiedono eh ma il VAR che ci sta a fare ragazzi il VAR interviene soltanto nel caso di clamoroso errore non interviene in ogni minima decisione arbitrale è giusto non è giusto quella è a vostra interpretazione però ricordatevi che il VAR interviene solo in caso di errore o meglio dovrebbe intervenire solo in caso di errore da parte dell'arbitro se lì c'è stato anche minimo ma c'è stato il contatto l'errore non sussiste e quindi il VAR non interviene poi sul fatto che al VAR c'è una maresca anche lì possiamo aprire miliardi e miliardi di parentesi però è così quindi il problema non è nei torti che sta subendo il Cagliari ma nel criterio dei giudizi che usano gli arbitri perché non si può avere due pesi e due misure e come è successo con noi in serie A sta succedendo adesso in serie B e succederà secondo me sempre sempre quindi morale della favola secondo me urge una riforma che provi a ricontestualizzare l'utilizzo del VAR o magari cosa ben più logica secondo me ad avere un VAR oltre che nell'azione di gioco singolarmente un challenge per le squadre ovvero che o due o tre volte a partita una squadra può richiedere il VAR cercando di ottenere che ne so un rigore un'espulsione per gli avversari una qualsiasi cosa però questo VAR va ricreato da capo perché così creerà e continuerà a creare polemiche questa è la mia idea comunque facendo un giudizio su Mario anche sulle partite che non ho commentato è un Cagliari che nelle ultime prove non mi è piaciuto Modena particolarmente ieri mi è veramente piaciuta la prestazione una squadra fantastica rocciosa dura una squadra quadrata secondo me lì ieri si è visto molto il tocco di Ranieri nella squadra però bisogna fare due gol non uno io ribadisco questo concetto il Cagliari non ha pareggiato perché Massa ha dato un rigore che non c'era o perché la Padula è un coglione anche per quello ma principalmente perché dopo l'1-0 non abbiamo più attaccato è quello il problema principale per cui il Cagliari è pareggiato secondo me però detto questo io sono curioso di sapere voi cosa ne pensate fatemelo sapere qua sotto nei commenti e detto questo non ci becchiamo in un prossimo video bella